In Campania 6.400 minorenni segnalati e in particolare nella provincia di Napoli. Il dato è stato reso noto da Samuele Ciambriello, garante campano, delle persone private e della libertà personale nel corso di una conferenza nazionale dei garanti regionali e locali a Napoli. Un triste primato, il commento del Presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero. Ciambriello evidenza che 7.792 reati, complessivamente contestati ai minori, la sagrande maggioranza riguarda reati contro il patrimonio, rapine, furto, ricettazione e estorsioni, a seguire i reati contro la persona, per lo più lessioni volontarie e quelli contro lo Stato e l'ordine pubblico. 233 giovani sono invece stati accusati di reati legati alla droga. Il dato più rilevante riguarda 8 minorenni accusati di omicidio. Abbiamo bisogno di mettere insieme una strategia politica e di impatto, di intervento, soprattutto sulla scuola, ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale, Oliviero. Noi, come regioni campania, stiamo investendo molto nella scuola. Forse dobbiamo mettere a punto strategie nuove affinché questi fenomeni, così largamente diffusi, vengano ridotti al minimo. Il Consiglio regionale è stato poi approvato lo psicologo di distretto. Domani in aula sarà la svolta per quanto riguarda lo psicologo scolastico.